Buongiorno a tutti, sono Sifono Gomelis, sono responsabile del Nord Italia per il Gran Maestro Xenlao. Oggi abbiamo il secondo appuntamento per quanto riguarda il circuito funzionale, spero che il primo vi sia piaciuto. Ok, non sto lì a dilungarmi, vi faccio vedere gli esercizi, la modalità è la stessa del circuito della scorsa volta. Ok, adesso iniziamo, il primo esercizio sono i pugni, ricordiamoci sempre la posizione corretta, ci mettiamo in posizione, mansa o busa, iniziamo con i nostri pugni, i pugni sono tutti frontali. Mi raccomando, il circuito non è a tempo, o perlomeno all'inizio non considerate il tempo, fate gli esercizi in maniera corretta, poi vedrete che con l'allenamento sarete più veloci, quindi terrete conto del primo circuito che siete andati a fare e vedete poi i risultati. Ok, questo abbiamo detto il primo esercizio, quindi solo pugni in avanti. Ricordatevi il pugno dato perfettamente, quindi linea centrale, si colpisce con le ultime tre nocche e ricordate il faijin. Ok. Secondo esercizio. Secondo esercizio andiamo a fare il giro della forma chanchio, quindi con le gomitate. Quindi andremo a fare tsumma, paejan e aggiungo io degli affondi. Ok. Quindi riprendiamo sempre la posizione. Ok. Mettiamo in posizione le braccia, quindi lanza. Ok. Facciamo un giro. Un giro. Usiamo il faijin. Andiamo giù. Ci risolviamo. Un giro. Andiamo giù. Ricordate di riportare il piede in posizione, quindi di non tenerlo girato, come si dovrebbe tenere in teoria nel vinci, ma lo apriamo perché poi dobbiamo fare l'affondo. Quindi alleniamo anche le gambe. Ricordo in posizione. Giro, uno, due, due. Ok. Ma non fanno che prendiamo di mistichezza, andiamo sempre più veloci. Vi ricordo l'esercizio sempre eseguito e ma non è corretto. Ok. Secondo esercizio. Terzo esercizio, scusate. Facciamo lanzao, faxao e poi c'è una. ci mettiamo sempre in posizione. Ok. Mettiamo in posizione. Posizione. E ritorno. Anche qua. Molto esplosivo. Ricordate di non andare troppo indietro. Ok. arrivo. Ritorno. Ok. Perfetto. Adesso andiamo al quarto esercizio. Adesso facciamo l'esercizio per quanto riguarda le gambe. Sempre in posizione. Ok. Spostiamo la gamba. Ok. Tiro sulla gamba. Calcio. Ok. Possiamo fare destra e sinistra. Oppure utilizziamo la sola gamba. Ricordate sempre di ritornare in posizione. Ok. O stiamo con la posizione dei pugni all'altezza dei pettorali. Sennò usiamo la mansao busao. Indistintamente. Vanno bene tutti e due. Ok. Adesso andiamo al quinto esercizio. Che sono i pugni. Però questa volta usiamo il chumà. sempre in posizione. Masao busao. Jumà. E due. Stesso discorso di prima. Vanno dati bene e correttamente. Usiamo il faginio. Bene. Giro. E la posizione dei piedi deve essere corretta. Adesso passiamo al sesto esercizio. Ok. Facciamo un affondo e utilizziamo il calcio laterale. Ok. Posizione. Faccio un affondo. Vado giù. Mi tiro su. Vuoto il bacino. Calcio. E vado giù. Cambio gamba. Vado giù. Cambio gamba. Ok. Anche questo ricordate sempre in maniera corretta. Leggero giù del bacino. Calcio. Colpisco. Col taglio del piede. Ok. Questi erano gli esercizi. Adesso alla fine di questo video ci sarà l'elenco con i nomi di tutti gli esercizi e la tempistica che dovete utilizzare per fare questo tipo di circuito. Ok. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo circuito. Vi ringraziamo di aver guardato questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like o anche un commento. E mi raccomando condividete. Per non perdervi tutti i nostri video iscrivetevi alla pagina. e sotto in descrizione trovate anche tutti i nostri link alla pagina Facebook, Instagram e al nostro sito internet. Al prossimo video!